Un quartiere ormai storico nato negli anni 50 è abbandonato al degrado tra la rabbia dei residenti. Parliamo di San Giorgio di Ocilia, basta fare una passeggiata per trovare marciapiedi in pessime condizioni, erba alta e sporcizia. Più di un mese che ci troviamo in questa situazione, specialmente in questa via, in via Ettore Horace del France 18, dove è pieno di erba, come vedete, non viene nessuno. Ho fatto più di una volta una segnalazione al comune di Roma, dove dichiaravo la situazione dell'erba e tutto quanto. Mi hanno detto che avevano fatto la segnalazione al decimo municipio, perché questo paese ne occupa il decimo municipio. Non sono venuti, non è solo via Ettore Horace del France, ci sono anche altre vie che comunque sono sporche. Noi cittadini non possiamo scendere in piazza e pulire. Qui non c'è stato un marciapiede dove una mamma con il bambino è costretta a camminare in mezzo alla strada. Tanti si fanno pure male perché inciampano, sei radici e compagnia bella. Non c'è stato un marciapiede idogno in tutta la zona. La situazione è un macello, se va al marciapiede appresso qui alle suore, la signora lo sa, specialmente per le persone anziane è un macello. Dovrebbero intervenire. I marciapiedi la prima cosa, le strade, la pulizia dentro i lotti, l'erba, i giardini che non sono curati, questo penso che sia le principali cose. I cittadini denunciano anche la mancanza di potature degli alberi, i cui rami, in alcuni casi, si appoggiano sulle finestre delle abitazioni. Vedete questi alberetti qua? Hanno superato il palazzo. Un albero alto più di sei piani di un palazzo. Ma dove stiamo andando? Questo tra poco tranno, si ammalano e muoiono. Però tutte queste foglie, tutti quei rami cadono per terra, nessuno li viene a raccogliere. Sono trent'anni che sto qua, sono sempre le solite cose, non è cambiato niente. Anzi, mi sta peggiore, siamo stati quattro o cinque giorni con l'acqua fino a qua, la cali senza acqua a casa. E' la verità. Quindi secondo lei ci sarebbe bisogno di un po' più di attenzione su questa zona? Un po' più di fare cose, non da guardare, da fare, scopini, tutto uguale. Qui la roba è buttata per tutto, non ti pensa nessuno. Siamo sempre una borgata proprio abbandonata. Siamo sempre un po' più di attenzione su questa zona.